Ciao raga Oddio mio Il terzo video ho parlato O il quarto che faccio E sono molto felice di questa cosa Penso che la farò molto più spesso Comunque In questo video volevo solamente Parlare di Martina Si chiama così Perché è un video Diciamo dedicato più a lei E Volevo solamente dirgli che Cioè a chi non Mi interessa potete scorrere O potete cambiare video Non vi preoccupate Non mi offendo Anche perché sono gusti vostri In pratica io E lei avevamo diventato amiche Da non so quando Dopo un po' Ha iniziato ad esserci una tipa Che si chiama Adesso la faccio vedere Non la andate a insultare Anche perché non trovo neanche più il canale Sinceramente Aspettate Qui è una mia amica Giulia La saluto Anche lei Dai Sofia Stone Anche lei la saluto Che è una mia grande amica Dai Deve essere qua vicino Oh signor Un'ora Dai E c'è un'eximo Eccolo Fanpage di tutto Mi è incominciato a rubare Alcuni video E poi A chiamarli per suoi Allora Martina Perché Presumo che si chiami così Ha iniziato Scusate ma Sono molto stanca Ha iniziato a dirgli Diciamo a fargli La lecchina Ovvero la lecca E non vado avanti Perché sennò magari Mi panna No Con questa qua Allora ha detto Ma tu Hai rubato i video Alla mia migliore amica Eccetera Dopo ho visto le date Perché è successo un casino E non ha più creduto a me Allora è andata a credere All'altra Ha detto Ah anche che sei stata carina Ti seguo Io l'ho bloccata Su Pinterest E su tutti i social media Che io potessi fare Su Youtube Non so come si fa Se voi lo sapete Aiutatemi a dirlo Eh a dirglielo Adesso ho fatto sta Che Martina È questa qua Per piacere Non la seguite Perché Cioè Scusate Se volete seguitela Però Fate un po' come vi pare Solo che A me dà fastidio Un pochettino Qua Vediamo se Continua a cancellare A mettere video Andate a segnalare Tutti Sto guardando Ha cancellato il video Grazie Sto andando a vedere Un secondo Un secondo raga Se vi annoio Potete scorrere Non Non vi preoccupate Ok Si strana Zia E comunque Nulla Andatela A non seguire Perché Sta già su un po' Eccetera E nulla Vi lascio Anche stasera Con un altro video Parlato E ci sentiremo Domani O dopo Che magari Pubblicherò Qualcosina Ciao